Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi sabato 18 novembre. Vediamo quali sono le notizie fondamentali oggi sui giornali. Tutti quanti i giornali oggi titolano ovviamente sulla morte di Totò Rina. Muore in carcere il capo dei capi, il corlonese, quello che è l'uomo delle stragi, l'uomo dei mille omicidi, ne ha ammazzati tantissimi direttamente sin da quando era ragazzino. Le sue prime faide sono da minorenne, finiscono con Falcone, Borsellino, le stragi del 92 e poi quelle continuate nel 93. In mezzo magistrati, giornalisti, forze dell'ordine, camorristi, figli di camorristi uccisi e sciolti nell'acido. Insomma una bestia dal punto di vista umano, nel nostro punto di vista per il quale ancora siamo persone normali, per cui la bestia è peggio dell'uomo. La bestia ha un modo di fare bestiale, istintivo, che noi cerchiamo con la ragione di evitare di fare. Questo è quello che era Totò Rina. Per fortuna che ce lo siamo tolto dalle scatole, dalla vita e dalla vista, gente come Totò Rina era giusto che marcisse in carcere fino all'ultimo giorno. Come è giusto che non gli sia fatto un funerale pubblico? Oggi su Corriere della Sera lo spiega bene un sacerdote in cui dice che è previsto proprio dalla nostra disciplina, dai nostri canoni, che un scomunicato come Rina non debba avere un funerale pubblico. Se vuole avrà la benedizione, come è normale che sia per qualsiasi morto, in cappella, in forma privata, da parte di un sacerdote. Molto interessante sulla Repubblica Caselli, il magistrato antimafia torinese, che molto ha combattuto anche in Sicilia, dice che quella mafia di Rina è morta. La mafia degli omicidi, la mafia delle stragi, la mafia delle violenze, cioè violenza c'è anche nella mafia di oggi, però quella mafia clamorosa nei suoi gesti di ribellione allo Stato Costituito, secondo Caselli, è finita. Non è finita l'antimafia, perché dietro all'antimafia, questo lo aggiungo io, c'è tutta quella retorica, cioè se muore Rina muore una certa antimafia. E questo non va bene per chi è accampato di antimafia, nel senso proprio più parassitario del termine. Ovvio che si deve combattere la mafia, ma in Italia spesso, dietro a cause giuste, si creano cricche, interessi, circostanze, comitati, stipendi, che per combattere quelle istanze giuste continuano a vivere anche quando quelli fenomeni vengono sconfitti. Oggi il problema è l'andrangheta, sostiene Caselli, non tanto quella mafia che comunque è stata sconfitta. Muore il capo dei capi e Giordano, oggi molto interessante il suo pezzo, dice Mario Giordano, dice attenzione perché lo state incensando, le state facendo un mito di questo barbaro omicida che non si riesce a capire se il mito sia più lui o quelli che lo hanno sconfitto. Direi che non sono granché appassionato sulla morte di Totò Rina, perché muore finalmente un bastardo e ce le possiamo anche archiviare. Mi interessa di più un aspetto sociale di quello che oggi leggo sui giornali, in particolare sul Corriere della Sera, e cioè questi ragazzi del Virgilio. È una scuola romana, un liceo romano che viene considerato un ottimo liceo romano, fa schifo, ve lo dico subito, sin da quando andavo io a scuola, hanno quest'area di essere più bravi di tutti, dove c'è questi ragazzi della Roma bene, non è la Roma bene, sia chiaro, è la Roma che si ritiene bene, cioè la Roma dei figli dei politici, di sinistra ovviamente, non quelli di destra che sono degli sfigati, la Roma degli intellettuali da quattro soldi che vanno al Festival del Cinema, la Roma dei bottegai, quelli che pensano di non essere più degli artigiani o dei commercianti, ma qualche cosa di più sofisticato, i fornitori degli intellettuali. Ecco, questa Roma qua manda i figli al Virgilio, al classico del Virgilio, e a questa Roma qua si unisce una Roma sessantottina, una Roma di sinistra, una Roma che è insopportabile, e i figli ne sono i degni rappresentanti di questa Roma insopportabile. Il problema non sono i ragazzi che vanno al Virgilio, che si firmano le trombatine, come la coca che pippano, il cannino che si fumano, la bombetta che buttano a ricreazione. Il problema non sono quei ragazzi, perché quei ragazzi esistono in tutte quante le scuole. Il problema è che i presidi, i professori, quei ragazzi non possono far nulla. E sapete perché? Perché c'hanno dei genitori che sono delle teste di minchia e che difendono questi ragazzi, e che allevano questi ragazzi, e che giustificano questi ragazzi. E sono talmente tanti questi genitori che giustificano questi ragazzi, per cui la preside, che oggi rilascia un'intervista al Corriere della Sera, di fatti se la prende quasi più con i genitori che con i ragazzi. Insomma, quella è la Roma di merda, chiaro? Quella è la Roma che fa male, si dovrebbe dire, al futuro del nostro paese, quanto fanno male le testate del signor Spada a Ostia. A Ostia ci abbiamo i sinti che fanno i mafiosi. A Roma centro ci abbiamo i figli degli intellettuali di Roma che faranno i dirigenti politici, i burocrati e gli intellettuali del prossimo millennio. Insomma, queste due campane sono la morte civile di un paese, tra Spada e Fighetti del Virgilio. Questa è Roma. In mezzo, ovviamente, ci sono tanti romani che non la pensano come loro e che si fanno il mazzo come loro, come la preside del Virgilio che dice che preferirei andare veramente a trovarmi con i camorristi in provincia perché almeno con loro saprei come trattare. Poi nel frattempo, ovviamente, gli studenti ieri hanno approfittato per manifestare. È una delle manifestazioni, come al solito, degli studenti che finiscono con imbrattare i muri e rompere qualche vetrina. Oggi sui giornali c'è poca roba perché ormai ne abbiamo fatto il... come possiamo dire, ne abbiamo... ci siamo fatti il callo, forse meno i commercianti, gli artigiani e il decoro delle città che devono sempre essere distrutte da questi quattro deficienti che pensano di fare così la manifestazione contro l'alternanza lavoro e il presunto sfruttamento che subirebbero. L'Appendino, sindaco di Torino e del Movimento 5 Stelle, fino a prova contraria, a parte le questioni che ha col capo di gabinetto, le multe, le questioni, diciamo di piccolo cabotaggio rispetto a quelle di Roma perché almeno lei, il capo di gabinetto, si faceva togliere le multe mentre il capo di gabinetto, comunque il braccio destro della sindaca Raggi a Roma quello invece pare si facesse regalare le case da Scarpellini. Ma insomma, fatta questa piccola premessa sul fatto che l'Appendino è un sindaco del Movimento 5 Stelle, oggi scoprono, non mi ricordo dove, su quale giornale, che la sindaca Appendino, sapete che cosa vuole? Vuole le Olimpiadi nel 2026. Allora io mi dico, ma scusatemi, è lo stesso Movimento 5 Stelle che non ha voluto le Olimpiadi a Roma? E perché le Olimpiadi invernali a Torino sì e le Olimpiadi invece a Roma nel 2020 no? Me lo volete spiegare? Mi date per favore caro genio di Grillo, prima di vomitare noi giornalisti dopo averli mangiati, sai che cosa dico? Io vorrei mangiare i tuoi sindaci e poi vomitarli per le cagate che dicono. Questo è il gergo che usa Grillo, no? Il Grillo parlante. Io ho minimo rispetto per Grillo, massimo rispetto per chi viene eletto. Non di Grillo comunque, quando spiega queste cose. Poi voglio chiedere a Grillo e ai suoi rappresentanti, scusatemi, ma voi siete gli stessi che dicevate onestà, 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 non vogliamo i costi, gli sprechi di Stato? Oggi leggo su Mattia Feltri, sulla stampa, che l'ufficio comunicazione del Compidoglio, che non so che cosa debba comunicare se non il disastro di Roma, ha 49 dipendenti più 15 archivisti, 49 dipendenti, 49 giornalisti più 15 archivisti. Calcolate che il giornale forse non arriva a 80 o 90 giornalisti, ma il Compidoglio ha 49 giornalisti più 15 dipendenti e ha fatto un bando per tre nuovi dipendenti. Vuole assumere tre persone, l'ufficio di comunicazione del Capidoglio, tre nuove persone, di cui una, dice Mattia Feltri, è esperta in foto ritocco. Foto ritocco. Benissimo. Travaglio oggi nel giornale del Movimento 5 Stelle cerca di spiegare, abbastanza, devo dire, è diventato come cuore il fatto. Vi ricordate il giornale Satì, il giornale che faceva ridere? Oggi trovate sul, vi giuro, vi giuro, oggi Travaglio sul fatto ci spiega perché le toghe sono amiche di Berlusconi e l'hanno sempre aiutato. Veramente, eh? Partendo dall'ultimo caso, cioè che Berlusconi ha vinto contro l'Alario sull'assegno di mantenimento, oggi Travaglio spiega che non sono le toghe rosse, ma sono delle toghe azzurre, hanno sempre aiutato Berlusconi. Questo spiega Travaglio. Non capendo Travaglio o dimenticandosi che Berlusconi ha erroneamente, per un giudizio della magistratura, negli ultimi anni pagato un assegno a sua moglie che non avrebbe dovuto pagare secondo tutti quanti canoni normali di ragionamento. E non si ricorda Travaglio, nel giornale del Fatto Quotidiano, accecato dalla giustizia, soltanto quella che gli piace a lui, che il motivo per il quale Berlusconi non paga l'assegno alla moglie nasce da una sentenza che riguarda un precedente ministro che si chiama Grilli che ha stabilito che non si deve mantenere lo stesso tenore di vita, la moglie sia in grado di mantenersi da sola. Una cosa di normale e banale civiltà giuridica, ma questo Travaglio non lo sa perché adesso scopro sul giornale del Movimento 5 Stelle che Travaglio è che i giudici stanno con Berlusconi. Oggi sulla prima pagina del Corriere dell'Alto Adige c'è il seguente titolo Annuncio shock! Affitto la casa perché voglio, però voglio inquilini cristiani. Va bene? L'annuncio sarebbe shock di questo signore che dice affitto la casa però voglio inquilini cristiani. Poi si legge meglio che lui non dice voglio inquilini cristiani ma voglio inquilini di cultura cristiana. Allora io mi chiedo una cosa, la casa di chi è? Di questo signore. È libero di affittarla? Sì, è libero di affittarla. Siamo ancora in un paese libero per cui io a casa mia ci metto anche in affitto? Chi cacchio voglio io? O no? O viviamo in un paese talmente cretino e rimbambito dal politicamente corretto per cui io la mia proprietà privata la debbo dare a chiunque voglia. Io sono contrario a questa idea in maniera totale. Se quel signore avesse detto io affitto casa soltanto a musulmani sarebbe andato bene uguale per me. Se quello avesse detto io affitto casa soltanto a omosessuali sarebbe andato bene ugualmente per me. Se diceva io non voglio omosessuali sarebbe andato bene ugualmente per me. Se dice pure io non voglio quelli che hanno gli occhi neri e questi occhiali sarebbe andato bene comunque. La proprietà è sua e ci fa quello che cazzo gli pare. Non c'è nessuna legge per cui obbliga un signore ad affittare una casa a un bianco, a un rosso, a un verde, a un nero, a un marocchino. Vi è chiaro? Secondo me questo è il principio della proprietà privata e della tutela della privata. Non è un annuncio shock cari amici del Corriere dell'Adice. È un annuncio legittimo di chi ha una proprietà privata che ci fa esattamente quello che vuole. Sapete perché shock? Perché siccome dice che lo vuole affittare a inquilini cristiani cioè probabilmente il 90% della popolazione in questo paese di cultura cristiana tranne una piccola parte di immigrati e molti di questi immigrati sono di cultura cristiana come i filippini e tanti altri il politicamente corretto fa sì che lui non debba discriminare nell'affitto della sua casa il popolo grande, magnifico, musulmano. Ma perché? Dove sta scritto? Non è uno Stato, non è una nazione, non è la sanità pubblica, non è la scuola pubblica, è la casa di un privato e ci fa quello che gli pare fino a prova contraria. Vabbè, vi do un saluto e vi do appuntamento domani come sempre con la zuppa di porro. Ciao! Ciao!